batterò il record Tom, a quanto ammonta momentaneamente? 5 ragazze, lo detiene Harry ricordatelo bello da questa sera i numeri cambieranno e tu Jake, che cosa ti piacerebbe fare di più al mondo? beh mi piacerebbe ballare sotto la pioggia cantando squarciagola e magari vedere le facce dei passanti che mi guardano in modo strano e tu Will, cosa vorresti fare di più al mondo? vorrei stare con Lily sentire il suo respiro sulla pelle guardarla mentre dorme te lo prometto Will lo farai sei giù di morale per quella ragazza da più di una settimana ho combinato un casino guarda, qualunque cosa tu abbia fatto sei ancora in tempo per tornare indietro promettimelo te lo prometto sono stufo di questa guerra del cazzo e di tutti questi ordini ma pensiamo al domani volevo vederti non riuscivo a stare senza te la storia del mondo racchiude in sé la storia dell'uomo una storia di egoismo, odio e soprafazione eppure continuiamo a schiacciarci a vicenda anche se sappiamo che in questa terra siamo degli esseri passeggeri come il soffio del vento nell'intento di soccorrere tre compagni feriti e di salvarli da morte certa la marina militare è orgogliosa e onorata di assegnare la medaglia al valore militare al soldato William Hopling tutto questo è colpa mia non l'ho capito non è colpa tua non è colpa tua se solo qualcuno non ti avessi incontrato in quel bar questo non sarebbe successo è colpa mia ultima chiamata siamo per salvare il solito John arriva offro io alla signorina e le faccio i complimenti per la sua splendida voce grazie preferisco pagare io ciao John grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti